ahahah ooooh vai vai picchi dai via io faccio la testa ma che cosa corri dai poi via scemo 3 ai blocchi di partenza cos'è? come cos'è? date il via c'è una forza vincolo date il via voi 3 2 1 via la ahahahahah nooo ho vinto ho vinto il via ahhh ahhh ahhh